Stanchi delle solite feste? Non temete? Così diventa molto più divertente Perché noi di Team Nick abbiamo una sorpresa per voi Dal 2 all'8 gennaio Team Nick vi invita al Music Party Una programmazione speciale con tutte le vostre serie preferite e... Ciao ragazzi, ci sono anch'io su Team Nick Music Party Team Nick Music Party, solo su Sky, canale 606 Grazie a tutti